Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che in verità scorre regolare su tutta la rete autostradale Toscana e in Fipilì. Si segnala comunque che sul raccordo Bettolle-Perugia fino al 20 novembre rimarrà chiuso lo svincolo di Cortona in entrata e in uscita in direzione Perugia. Sulla statale 1 Aurelia proseguono invece i lavori con scambi di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano in direzione nord e tra Scarlino e Venturine in entrambe le direzioni, in entrambi i casi fino a fine novembre. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze dove si segnalano possibili disagi a causa di un incidente avvenuto in via Arnolfo all'incrocio con via Piagentina e per il momento è tutto muoversi in Toscana e realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!